forse possiamo cambiarla ma è l'unica che c'è questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole forse cent'anni o duecento è un attimo che va forse di un attimo appena sarebbe con me tutti vestiti di vento ad inseguirci nel sole tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove minchia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'auto velox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 di età e preso uno senza patente minchia signor tenente faceva un caldo che si bruciava la provinciale sembrava un forno c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo ed è così tutti sudati che abbiano saputo di quel fattaccio di quei ragazzi morti ammazzati gettati in aria come uno straccio caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente minchia signor tenente e siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese e c'è una cosa qui nella gola una che proprio non ci va giù e farla scendere è una parola se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente minchia signor tenente lo so che parlo col comandante ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante la voce radio ci fa tremare che di coraggio ne abbiamo tanto ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca fare i conti con il coraggio della paura e questo è quello che succede adesso